Il coordinatore regionale della Lega Luigi D'Eramo non indietreggia di un passo, ma Bella Chioma, fondatore del partito in Abruzzo, si dimette e annuncia di averlo già comunicato al leader del Carroccio, Salvini. Decisione sofferta, dice Madamesi, c'era un malessere politico, rimane comunque nel centrodestra. A parte questo, la Lega prova a ripartire dopo le elezioni politiche. Il coordinatore regionale Luigi D'Eramo, dopo un primo comunicato a caldo di commento al voto, in conferenza fa il punto della situazione. A dicembre ci sarà un'assemblea programmatica, ma inizieranno subito degli incontri comune per comune, in un tour che raccoglierà le esigenze e che sarà introdotto poi in un documento unico per l'assemblea programmatica, appunto con dieci temi da sottoporre al governo. La Lega è compatta, secondo D'Eramo. Ha avuto il sesto miglior risultato in Italia, ma ammette che il dato abruzzese in linea col dato nazionale si poteva fare di più. Non sono soddisfatto del dato, ha spiegato D'Eramo, se mi chiedete questo lo voglio dire, ma comunque abbiamo fatto un lavoro importante. il fatto che abbia vinto il centrodestra per lui è comunque motivo di orgoglio, permetterà alla Lega di portare tanti dossier all'attenzione del governo. Il risultato come Lega-Abruzzo è un risultato sicuramente in linea con il dato nazionale, ci aspettavamo qualcosa di più, ma questo in politica può anche accadere. Siamo più carichi di prima, quindi siamo immediatamente ripartiti, ieri abbiamo già fatto l'analisi del voto con la segreteria politica, nei prossimi giorni riuniremo l'esecutivo regionale, poi partirà questo tour comune per comune e a dicembre terremo una conferenza programmatica per delineare, dopo aver ascoltato tutti gli attori della società abruzzese, quelle che dovranno essere le priorità che come Lega dovremo portare all'attenzione del governo nazionale. Nessun azzeramento dei vertici, no dimissioni. Deramo ha precisa domanda su Bella Chioma e prima di sapere delle dimissioni risponde che lui non fa polemica con un singolo, ma piuttosto si preoccupa dei problemi degli abruzzesi. Il partito per Deramo è compatto e io sono più carico di prima, dice. Mi dispiace che la quella non sia rappresentata alla Camera, ma è ascrivibile alla perversione del sistema elettorale che non ci ha dato la possibilità di eleggere un rappresentante della città e della provincia. La Lega, ripeto, è compatta su quello che dovrà fare. Io credo che in un momento particolarmente difficile che sta vivendo la nazione e anche l'Abruzzo, un partito di governo deve concentrarsi esclusivamente su quelle che sono le problematiche che interessano i cittadini, quindi dal caro bollette all'occupazione, alle infrastrutture e ai trasporti. A me sembra paradossale dover commentare anche una polemica che ci può stare all'interno di un partito da parte di un singolo.